Musica Benvenuti a tutti ragazzi e ben tornati sul mio canale Oggi siamo ad una nuova serie chiamata Road to Care Package Mothership O più semplicemente Praticamente un road nella Mothership e negli approvvigionamenti ragazzi Sì perché questa sarà la serie giornaliera che porterò oltre al road to secret cam Ovviamente le armi che andrò ad usare non andrò ad intaccare quella serie Poiché saranno solo una preparazione a quella serie Perché per esempio oggi andremo ad finire il Weevil Che non avevo finito nel primo episodio Comunque il primo episodio mi hanno fissato gli obiettivi di praticamente raggiungere 3 mimetiche E ce l'abbiamo fatta Adesso io andrò a fare le ultime kill rimanenti per farle oro Ovviamente l'obiettivo di questa serie è sempre quella di ricevere gli approvvigionamenti E porca miseria dove cazzo era quello non l'ho visto Va bene Come stavo dicendo era quella di raggiungere gli approvvigionamenti E sperare che uscisse Bella, bella Quella mia mira questa era ragazzi Perché la mia mira doveva sapere che se ne va a puttana queste volte E gli dice quanto vuoi? 50 euro Ok Ok Una kill e siamo agli approvvigionamenti No Io me la voglio Come dice qualche pubblicità Io non la voglio perdere No vabbè non ci credo Ma non ci credo Cioè sono il primo addirittura ragazzi Ok Manca qualcosa? Manca qualcuno? Davvero paura Che non c'è nessuno Zitti C'è qualcuno? Ok l'ho ucciso ma porca la miseria Quanto è difficile Dobbiamo arrivarci agli approvvigionamenti pure Ok io ho fatto un po' di danno uccidetelo Allora assiste Allora qua chi c'è? No vabbè è impossibile Guardate come cappera quello Ce n'è un altro Ok ora prendiamo A Prendiamo A che devo prendere gli approvvigionamenti Ok Vediamo Allora ci manca un uccisione per riceverli Vediamo se questo è un qualche Allocco Oh non ci vogliono far prendere gli approvvigionamenti Dove cazzo sono? Ok Ok le abbiamo Le abbiamo Le abbiamo ragazzi Le abbiamo Abbiamo i primi approvvigionamenti Guardate cosa devo fare per ricevere degli approvvigionamenti Vediamo Potremmo pure finire qua la serie ragazzi Non ci credo Non ci credo No no io ma nemmeno li prendo ragazzi Cosa è? Sentry gun ragazzi Ancora Non è uscito ciò che Potrebbe servicio a noi Per finire Oh 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 Che culo Ma non ci credo Però ce l'ha davanti Come fai a non ucciderlo? Porca la miseria Niente mancano pochissime kill per farla oro Questa weevil Dai Vai Esci Vabbè Tutto a lavar di là Io Ma vaffanculo Volare Ok Vediamo allora Vabbè è impossibile Ecco cazzo Torretta vaffanculo Quando solo quando ti attivi On e off Se no non ammazzi Oh ma che difficile ragazzi Ecco Esci Volca miseria Quanto è difficile Zitto C'era un altro No 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 Non a me Ok Spunta Due ce ne sono Non ci credo Ma non muoio No No Muoio No No Carca miseria Carca miseria Ok di vero e difficile Babbo Facciamo così Me l'hanno rubato Me l'hanno rubato Che figli di puttana Me l'hanno rubato Qua c'è qualcuno Lo sento Che cazzo è Eh t'ho fregato Sasino Sasino T'ho vinto Fatto pure l'ultima Fatto pure l'ultima ragazzi Mi sa Vediamo Vediamo Vabbè abbiamo finito il primo round Abbiamo Abbiamo chiamato solo Un approvvigionamento Che Spero diventeranno di più Perché è davvero difficile Ora sto giocando Veramente con Un'arma senza accessori Quindi è davvero difficile Fare comunque Qualcosa di buono Anche se Non dubito che sia un'arma buona Usiamo questo Ok Vai Ecco Ok L'altro Ok abbiamo il car package Ragazzi Però voglio restare là Perché so che c'è qualcuno là Ok Lo avevo detto Prima un po' dovevo uscire Vabbè ragazzi Abbiamo il secondo car package Di oggi Vediamo se c'è qualcun altro Da ammazzare No Quindi Ah si c'è qualcuno Ok Andiamo a chiamarlo ragazzi Andiamo a chiamare il Ok Vediamo ancora Power core ragazzi Power core Ricordo che è una ricompensa Molto alto Power core Quindi Come potete vedere Le ricompense alte Escono e come Lo mettiamo qua Lo mettiamo qua dietro Magari nessuno Lo guarda Ok Guardate Quante cose Ok un altro car package Ragazzi Stiamo prendendoci Io me ne vado Oh Mi sta distruggendo il mio power core Beh andiamo al secondo Adesso è il provvigionamento di oggi Vediamo Vado con il mio ciro Ah rcxd Stavolta una ricompensa bassa Sono contento così ragazzi Allora Vediamo qua un po' come siamo combinati Ok Direi che va bene ragazzi Sono davvero contento Perché già Mi sta prendendo molto questa sera C'è pure la 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 cosa C'è mi batte veramente forte il cuore Quando prendo una provvigionamente Forse potrebbe finire Ehi Ehi La morte C'è qualcuno qua Ah però non muori Dio santissimo Ora voglio C'è questo L'ho uso Ti uso La mia bugatti Bella No Malavista Beh stai camperando là zio Che non vorrei dire Allora Ti ho salvato un po' Che è Il ciuletto Ah Bene Ci buttiamo su C Guardate come ha spuntato di qua Che cazzo No Voglio prendere C Andiamo C Pidiamo C ragazzi Che poi ci mancano solo 50 per gli altri reti E provvigionamenti Ma non si capisce un cazzo No Di dietro Di dietro Ci manca veramente pochissimo Ci hanno preso B Ci hanno messo al culo Ok è morto Ok Qua qua Mamma che tripla No Porca miseria D'arte Nulla di che ragazzi Comunque avete visto Che cazzo di tripla Porca la miseria C'è Guarda Tanti c'è Gold ragazzi È finalmente arrivata Ai Uno è andato Due è andato Oh mio dio Oh my god Ci manca pochissimo Abbiamo iniziato malissimo Ma ci siamo ripesi all'ultimo Saliamo qua Magari riprendiamo qualcuno Alla sprovvista Tipo questo Però questo ho sbagliato io Perché non l'ho visto Usiamo il dart Prima che finisca Io non lo so guidare il dart Ripeto perché non l'ho mai usato Vediamo se c'è qualcuno Andiamo di qua Bella Bellissimo Il dart è più bello di tutto Di sempre volevo dire Ne manca uno Lo posso fare io l'ultima Niente ragazzi È finita così qua ragazzi La prima Il primo episodio scusate Delle ruote To mark car package Model ship Abbiamo ricevuto Un dart Un rxd Una torretta E il power core Ragazzi Che se non sbaglio È la ricompensa Prima della Del robottino Dell'unità Dj Come si chiama Ragazzi come sempre Vi invito a lasciare un mi piace A continuare il video Trovate tutti i link dei social In descrizione Restate sul canale Per questa nuova serie Sul mio canale E ricordate che è iniziata pure Nella nuova serie Sul road To secret camo Il vostro video Se è tutto È bella ragazzi Nella nuova serie E ricordate che è iniziata pure Che è iniziata pure